L'amministrazione comunale di Lucera con delibera di consiglio del 28 settembre 2017 ha deciso di esentare dal pagamento dei tributi comunali di esclusiva competenza dell'ente locale a decorrere dal 1 gennaio 2018 i nuclei familiari in cui sia presente almeno un ultracentenario. Tale iniziativa consente di veicolare il messaggio politico con l'impegno economico pressoché irrilevante per il bilancio dell'ente i cittadini di Lucera non dovranno pagare i tributi comunali fino all'ultimo giorno della loro vita poiché l'obbligazione cesserà al raggiungimento di una fondamentale tappa dell'esistenza umana. Diversi nuclei familiari ad oggi possono già godere dell'intervento agevolativo e l'auspicio dell'amministrazione è che un numero sempre più elevato di famiglie ne potrà beneficiare in futuro. Grazie Grazie